Sì. È in funzione? Sì. Buongiorno, oggi è sabato 21 agosto, San Bernardo. Tanto la metto in velocità. Ti vedo, ma? Ok. Farò tipo un collage di noi che te fai che fai il pane tutto in velocità con questa canzoncina che è uguale, eh? Questa la faccio sentire, ma? Alexa, open YouTube. Here is your chin. Ain't no time to fix the shingle. Grazie. 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 Grazie.